Possiamo riprendere la nostra selezione musicale, è il turno di una ragazza, un talento incredibile, 16 anni, signora, signori, Vincenza Basile! Sì, sì, Vincenza Basile ci farà ascoltare una canzone scritta da Mogol Battisti nel 72, un vecchio brano bellissimo, scritta apposta per Mina. Lei interpreta un brano divina dal titolo La Mente Torna, è un pezzo bellissimo, delineatissimo, si crea in questo pezzo una finestra eteria nell'attesa che l'amato venga e alla fine quando arriva il proprio amato amato, la mente si ferma e la mente respira. Siamo pronti? Ci siamo? La Mente Torna, Vincenza Basile! 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 Il cuore mio quasi si ferma, e intorno a me, un spavaggio immenso, che persino io non ho più senso. Mi parli tu, il mondo è accenso, quello che era mio, tu l'hai già preso, non ci sono più per me. E' esitazione, ti chiedo solo, senti quel cuore. Vincenza Basile, signori, che splendore, la forza della canzone d'autore, un pezzo che ha più di 40 anni, che freschezza, che bellezza. Brava Vincenza Basile!